salve a tutti amici con gli sconti del amazon dei prime e qui sotto vi metto già il link per potervi iscrivere ad amazon prime ho acquistato due cose molto interessanti in questo video vi farò vedere il primo cofanetto che ho acquistato chi non è propriamente un cofanetto ma è un'edizione speciale un lupo mandare americano a londra un film di john landis e adesso faremo una specie di unboxing insieme per far vedere quello che contiene vediamo quindi insieme il contenuto come abbiamo visto dai magi precedenti a parte i contenuti speciali che sono attenzione alla luna ho passeggiato con lupo vannaro intervista john landis e anche rick baker il truccatore questa edizione ha un booklet fotografico che vedremo insieme ricco di citazioni e margini di scena questa cosa che apprezzo tanto avendo lavorato come fotografo di scena su diversi set mi piace molto vedere le foto di scena anche se in questo caso immagino che siano le solite foto di scena senza foto particolarmente nuove perché sapete quando si presenta un film ci sono sempre quelle foto più iconiche poi magnete da collezione con luca dina origine del film questa è una cosa carina anche perché oggi mi arriva del nuovo frigo e verrà inaugurato con questo è la copia numero 964 di mille perché condizioni mirata lui non è un lupo vannaro come vedete qui abbiamo un blu ray disc e un dvd quindi immagino che tutti i contenuti aggiuntivi siano sul blu ray disc e andiamo direttamente a vedere cosa c'è qua questa qua è la calamita per il frigo questo qua è il booklet questo qua li immagini quando inizia il film state notate dalla brughiera questo qua sono loro dentro la locanda la prima trasformazione che dunque edizione molto carina certo non ha chissà quante cose da offrire però la considero molto simpatica per gli amanti del genere o per gli amanti di john landis dunque vi ringrazio quindi dell'attenzione e ci risentiamo al prossimo video